Salve, sono Roberto Luneia, sono docente della materia trasformazione dei prodotti alimentari e insegno in questo istituto, nell'istituto Ciuffelli, da cinque anni dopo un lungo percorso formativo post laurea di circa nove anni di ricerca universitaria e venti anni di esperienza professionale nel settore dei servizi analitici e tecnologici a servizio appunto dell'industria agroalimentare. Trasformazione dei prodotti, questa disciplina è una disciplina altamente professionalizzante in un istituto agrario come questo perché in pratica i ragazzi studiano come vengono trasformate le materie prime vegetali o animali nei prodotti finiti che noi tutti poi troviamo negli scaffali del supermercato, quindi le bottiglie d'olio piuttosto che le bottiglie di vino piuttosto che un pacco di pasta e in particolare in questa disciplina i ragazzi hanno in questo istituto la possibilità di toccare con mano, come negli ambienti dove siamo adesso in una cantina, toccare con mano le trasformazioni realmente durante, mentre avvengono e quindi hanno la possibilità appunto di toccare le attrezzature, sentire i rumori, vivere negli ambienti, sentire gli odori che in una trasformazione dei prodotti alimentari vi assicuro è una cosa straordinariamente importante. Questo garantisce ai ragazzi poi, una volta che si diplomano e vanno nel mondo del lavoro, di avere la possibilità di aver già vissuto questi ambienti, avere una marcia in più e essere veramente apprezzati nel mondo del lavoro perché sanno già fare queste cose perché le hanno già viste. In particolare nella cantina hanno la possibilità di seguire un processo di trasformazione che dura molti mesi e quindi non può essere sostituito da un'esperienza magari di una visita didattica che dura un giorno o due. Qui il processo dura da settembre a marzo-aprile e i ragazzi possono vedere, toccare con mano, ripeto, tutte le varie fasi di questa importante trasformazione e venirne, diciamo, a conoscenza e diventare competenti in questo ambito. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Questa è una scuola che dà conoscenze e competenze che possono essere poi riversate nel mondo del lavoro, ma anche un'ottima preparazione universitaria per gli studenti che poi vorranno continuare a studiare. È molto molto importante questo e credo che in questo istituto queste cose si facciano molto molto bene.